Una due giorni dedicata al total look del matrimonio con idee e preziosi consigli per curare nei dettagli il giorno del sì. In tanti, soprattutto coppie di futuri sposi, non si sono lasciati scappare l'occasione di visitare Wedding Girl Inda alla ricerca di spunti e soluzioni per le nozze. Un appuntamento ormai fisso alla sua settima edizione, durante il quale le due gallerie del centro di intrattenimento di Corciano ospitano aziende che trattano tutto ciò che riguarda la preparazione del matrimonio. Dagli abiti da sposa e sposo alla luna di miele, dal make-up all'art stylist, dal catering al servizio fotografico a quello di wedding planner, dai fiori alle bomboniere fino alla regalistica, dalla scelta e allestimento della location al noleggio auto. Quest'anno è stato anche predisposto uno spazio, il Wedding Parlor, nel quale i futuri sposi hanno potuto confrontarsi con esperti del settore. L'evento si è proposto tra novità e conferme. Già dallo scorso anno, infatti, il Girl Inda dà vita a una spettacolarizzazione della manifestazione attraverso performance artistiche, come lo show romantico incanto di artisti sui trampoli con accompagnamento musicale live. Novità molto apprezzata di questa edizione è stato invece il Foto Contest che ha permesso a una fortunata coppia di sposi di vincere le fedi nuziali. Nello stand Photo Point, infatti, i fidanzati hanno potuto scattare foto, poi postate sulla pagina Facebook ufficiale del centro di intrattenimento. La foto della coppia, che ha raggiunto il maggior numero di like, ha permesso di ricevere in regalo dal Girl Inda agli anelli. A chiudere l'evento poi, la tradizionale sfilata in galleria dedicata ad abiti da cerimonia e da sposa.